La regione toscana per fronteggiare la disoccupazione giovanile? Non solo la disoccupazione giovanile, ma il tema dell'autonomia dei giovani attraverso il progetto Giovane Sì che è esplicita e si traduce in una serie di azioni che vanno dall'intervento sulla disoccupazione, promuovere impresa, tirocini per l'inserimento lavorativo, formazione, ma anche intervento per quanto riguarda il tema alloggio, ma anche intervento per quanto riguarda il servizio civile. Una dimensione complessiva che vede impegnati in tre anni 365 milioni di euro. Grazie. Invece a livello europeo cosa fa l'Europa e cosa pensa che potrebbe fare in più, sempre in ambito giovanile? Io credo che l'Europa debba assolutamente fare di più, perché se questo è un tema prioritario in Europa, sono 14 milioni i disoccupati, i giovani sotto i 30 anni che non hanno né lavoro nel studio, credo sia obbligatorio metterla al livello massimo di priorità. E quindi destinare risorse, indirizzare risorse mirate, aggiuntive, nuove, fresche risorse sul tema dei giovani in quanto tali.